Erano lavori attesi e adesso sono terminati. Hanno riguardato una struttura come il vecchio serbatoio idrico risalente la prima metà degli anni Sessanta. Lo scopo dei lavori è stato quello di alleggerire il carico del solaio, per mettere in sicurezza e rendere più fruibile l'area sovrastante. Sono stati lavori impegnativi, soprattutto per le difficoltà oggettive nella gestione delle attività di cantiere. Oltre all'allestimento del cantiere e alla movimentazione del terreno, l'operazione ha riguardato anche il successivo trasporto all'interno dell'area del cantiere del materiale per l'alleggerimento del carico sul solaio, ricoperto a sua volta da una sottile platea di malta cementizia. L'ultima fase ha visto la stesura dello strato di terreno e la successiva posa di un prato già pronto, in modo da rendere subito fruibili gli spazi. Ma non è finita qui, perché utilizzando come parte integrante del cantiere anche l'area sotto le mura nella disponibilità della Fraternità dei Laici, Nuove Acque si è impegnata a riqualificare completamente la zona interessata, andando così a valorizzare le antiche mura dell'anfiteatro romano, adesso tornato alla luce e dunque di nuovo a disposizione. L'investimento totale per la realizzazione dell'opera è stato di 250.000 euro. I lavori sono durati due mesi e mezzo, il cantiere si è chiuso nei tempi previsti, un ulteriore importante passo in avanti per la definitiva sistemazione dell'intera fortezza.